Gelso comune. Il nome scientifico del gelso è morus alba, dal greco moron, il latino morus, riferito al colore ed escuro dei suoi frutti. Esistono due specie di gelsi, il gelso nero, morus nigra, e il gelso bianco, morus alba. Il gelso è la pianta di cui si nutrono i bruchi del bombice della seta, bombix mori. I bozzoli che proteggono il bruco in metamorfosi sono formati da un unico filamento lucente prodotto dal bruco, che i cinesi nel 2700 a.C. hanno imparato a lavorare ottenendo i fili di seta. In Italia il gelso è stato introdotto attorno all'anno 1000 con la pratica della bachicoltura in Sicilia e in Campania. Solo successivamente, nella zona della pianura padana, dove si trovano tutt'oggi maggiori centri per la bachicoltura e la produzione della seta. Il gelso è un albero alto fino a 20 metri, dotato di un fusto a grossi rami regolari, che formano una chioma globosa e allargata. La corteccia in gioventù è grigio-giallognola e quasi liscia. La foglia è alterna, accordata, cioè a forma di cuore, con bordo dentato ed è l'alimento base dei bruchi dei bachi da seta. Sulla stessa pianta i fiori maschili sono cilindrici e lunghi fino a 4 cm, con breve peduncolo, mentre i femminili sono globosi e lunghi fino a 2 cm, ugualmente peduncolati. La fioritura va da marzo a maggio. Il frutto è ovale arrotondato, con peduncolo di 1 o 2 cm. È formato da piccole pseudodrupe carnose, ciascuno con un seme, di colore biancastro, più raramente roseo, rossastro o anche nero. I frutti hanno un sapore dolce, essi consumano freschi e vengono usati anche nella preparazione di sciroppi, gelatine e marmellate.